Buongiorno, oggi è venerdì ed è il 21 dicembre del 2018, c'è una storia che in questi giorni mi sta parlando al mio cuore in maniera straordinaria, la sto ripetendo, la sto condividendo, cercando di condividere in ogni riunione, ho deciso stamattina di fare un video specifico su questo, anche se sarà abbastanza breve, ma per cercare di comunicare proprio il cuore di quello che sto per leggere in Giovanni al capitolo 21, per fare breve la situazione, per far comprendere il contesto. Gesù è risuscitato da tre giorni e i discepoli si trovano a Capernaum, in Galilea, e Pietro decide di andare a pescare, gli altri discepoli che erano con lui decidono di seguirlo in questa avventura, cercano di pescare tutta la notte ma non prendono niente. Vedo un tizio strano da riva che chiede loro se hanno preso qualcosa, loro rispondo che non hanno preso niente e questo tizio strano che era Gesù in realtà dice gettate la rete dall'altro lato della barca, loro gettono la rete e prendono una quantità enorme di pesci. Giovanni si rende conto che quello tipo strano era Gesù ed è scritto qua in Giovanni 21 al versetto 9, dice come dunque furono scesi a terra, videro dell'abbrace con sopra del pesce e del pane, questa era la colazione dei pescatori di Capernaum, come dunque furono scesi per terra, appunto videro dell'abbrace con sopra del pesce e del pane e Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete presi ora. Si con Pietro risali in barca, tirò la rete a terra, piena di 153 grossi pesci e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò, Gesù disse loro venite a fare colazione, ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedere chi sei, sapendo che era il Signore, allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro così pure del pesce e questa fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai discepoli dopo essere risuscitato dai morti e dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona mi ami tu più di questi, sappiamo tutti la storia, non voglio entrare in questo argomento che tutti quanti conosciamo anche se la profondità di questo episodio continua a colpirci, a sorprenderci ogni volta che lo leggiamo, ogni volta che entriamo in esso perché ci fa comprendere quanto sia grande la grazia meravigliosa del nostro Signore. Quello che mi ha colpito in questi giorni è che Gesù era risuscitato da tre giorni, tre giorni nella tomba, quindi diciamo circa sei, sette giorni prima Gesù era stato crocifisso, aveva dato la sua vita sulla croce e non ho potuto fare a meno di ricordare che quando Gesù fu sulla croce lui era stato già tradito da Giuda, rinnegato da Pietro e abbandonato da tutti i suoi discepoli tranne da Giovanni come dice il Vangelo che fu l'unico che rimase sotto la croce insieme a Maria, madre di Gesù. Gesù appare di nuovo ai discepoli essendo stato tradito, rinnegato, abbandonato, essendo stato massacrato nel corpo, nel fisico e anche mentalmente attraverso la passione. Gesù è morto, Gesù è stato sepolto, dopo tre giorni è risuscitato, appare ai discepoli e per la terza volta si fa vedere qui a Capernaum. È una delle cose che mi sorprendono in maniera straordinaria che Gesù appare ai discepoli con un corpo glorificato e la prima cosa che fa è quella che ha sempre fatto, li serve e mi commuove tanto quando lui dice ai discepoli venite a fare colazione, è già tutto pronto per voi. Quando scesero dalla barca videro un abbraccio con sopra del pesce e del pane. Gesù aveva preparato la colazione e li accolse in maniera calorosa. Penso al fatto che Gesù avrebbe avuto mille opportunità e mille ragioni per far pesare loro il fatto che era stato tradito, rinnegato, abbandonato e che aveva subito tutto questo per loro. Ma Gesù non fece pesare mai tutto questo ai suoi discepoli. Vorrei anche oggi dare questo messaggio, questo è il messaggio del Regno di Dio, il modo in cui ci si relaziona nel Regno di Dio. Gesù non fa mai pesare le nostre mancanze, i nostri peccati, le nostre cadute, i nostri limiti, le nostre stupidaggini e ci accoglie sempre e continuamente quando noi pensiamo che lui invece ci debba rinegare, ci debba frustare o mandare qualche fulmine dal cielo, in realtà lui ci accoglie continuamente servendoci. Questo è qualcosa che mi ha veramente toccato tantissimo. Gesù ancora oggi ci serve. Come lui disse, come è scritto nel Vangelo di Matteo, io non sono venuto per essere servito, ma sono venuto per servire. Lo ha fatto con un corpo umano, fatto di carne ed ossa, lo ha fatto con un corpo glorificato, lo fa ancora seduto alla destra del Padre, intercedendo e pregando per ognuno di noi. E questo è straordinario. Gesù accoglie i discepoli, mangia con loro e non fa pesare minimamente loro tutto quello che hanno fatto in quelle poche ore prima della crocifissione. La cosa bella è che dopo aver mangiato, dice qua al versetto 15, dopo aver mangiato e bevuto naturalmente, disse a Pietro, Simone, figlio di Giona, mi ami tu. Gesù non aspetta che Pietro cade sulle ginocchia chiedendo perdono o pentendosi o, non lo so, dandosi colpi in faccia perché aveva rinnegato Gesù. No, no. Gesù fa tre volte la stessa domanda. Sappiamo, il bisogno di questa domanda ripetuta tre volte non era di Gesù, non era Gesù che aveva bisogno di sentire la risposta. Era Pietro in realtà che aveva bisogno di sentire la risposta. tre volte lo aveva rinnegato, tre volte aveva bisogno di far uscire dalle sue labbra. Tu lo sai che io ti amo. Tu lo sai che io ti amo. Oggi, mentre noi lo adoriamo, mentre noi lo innalziamo, mentre noi lo onoriamo con la nostra vita, ricordati sempre che mentre noi cerchiamo di mettere Lui al centro di ogni cosa, Lui cercherà sempre di mettere te al centro di ogni cosa. Tu sei la cosa più importante che Lui abbia. Lui è morto per te, è risorto per te, ritornerà per te. Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per te. Lui non ti farà mai, mai, mai pesare le cose sbagliate che hai fatto e ti onorerà per le cose buone che hai fatto. Lui cercherà di farti comprendere sempre di più che è il suo amore quello che ti cambia e non la sua punizione o la sua condanna. E questo è quello che Gesù ci ha insegnato, ci ha dato un'immagine meravigliosa del Padre, la vera immagine del Padre, un Padre che non condanna, che non giudica, un Padre che accoglie, un Padre che sa sempre rialzare in ogni momento. E questo è quello che voglio darti in questo video, voglio incoraggiarti, perché mentre tu sei concentrato o concentrata su di Lui, Lui continua a servirti. Lui ti dice dopo una nottata, vieni qua, riposati, mangia, stai con me, parliamo un pochettino, beviamo insieme e dimmi come stai, dimmi com'è la tua giornata, dimmi che cosa senti, dimmi che cosa provi. Mai, 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 assolutamente dobbiamo credere di avere davanti qualcuno che ci guarda con sospetto oppure qualcuno che aspetta il momento per farci pagare i nostri errori, no? Gesù è lì che ci aspetta, che ci accoglie, che ci fa mangiare e che con grande dolcezza e con grande tenerezza guarisce la nostra anima. Questo è quello che ha fatto con Pietro quando gli ha chiesto mi ami tu? E Pietro ha risposto certo signore, certo tu lo sai che io ti amo, certo, come mi hai tradito qualche giorno fa mi hai rinnegato e tu mi dici certo, Gesù conosce il cuore di ogni persona, Lui conosce il tuo cuore e voglio che tu sappia che non hai niente da dimostrargli, che non devi fare le cose per dimostrargli qualcosa, Lui sa esattamente quello che c'è dentro il tuo cuore ed ecco perché Lui ti accoglie, Lui ti ha già perdonato, Lui non ha bisogno che tu gli chieda perdono per perdonarti, i tuoi peccati sono stati già perdonati duemila anni fa in maniera eterna, ecco che Lui non cerca il tuo pentimento, Lui cerca di incontrare il tuo sguardo, guardarti negli occhi, parlare al tuo cuore, far uscire dalla tua bocca in realtà tutto ciò che c'è nel tuo cuore, quindi parla con Lui, sfogati con Lui, arrabbiati con Lui, da Lui avrai sempre una mano tesa, avrai sempre una colazione pronta, avrai sempre una tavola imbandita, e concludo con le parole di Davide, tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa tra bocca, e per certo, beni e benignità, mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella sua casa per sempre. Una buona giornata a tutti quanti, stasera saremo a Foggia, se c'è qualcuno in zona, abbiamo messo l'annuncio sulla pagina, quindi telefonate, venite, e godiamoci insieme alla presenza del Signore. Una buona giornata a tutti.